La procura di Barcellona Pozzo di Gotto indaga 66 persone accusate a vario titolo di realizzazione di discarica abusiva, combustione illecita di rifiuti e abbandono di rifiuti. I carabinieri hanno scoperto una maxidiscarica abusiva nel greto dei torrenti Mela e Patry. La discarica ha prodotto danni ambientali e ridotto i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico. Sono stati disposti il sequestro preventivo di 14 camion del valore complessivo di oltre un milione di euro appartenenti a diverse ditte e la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per la durata di un anno nei confronti del titolare di un'impresa. A liberarsi dei rifiuti nella discarica erano aziende che si occupano di edilizia, della lavorazione del legno e del ferro, di prodotti agricoli, del trasporto merci, di ristorazione e di officine meccaniche. I carabinieri avevano piazzato telecamere nella zona e hanno avuto la conferma che era destinata stabilmente all'abbandono di rifiuti, alcuni pericolosi per la salute dell'uomo. In alcuni casi i cumuli di rifiuti venivano anche dati alle fiamme, il tutto per evitare i costi dello smaltimento legale.